Quattro interventi, di cui tre riguarderanno impianti fognari e depurativi per un importo complessivo di circa un milione e mezzo di euro. Roseto degli Abruzzi guarda al futuro e grazie alla fattiva collaborazione di Ruzzo Reti darà il via, nei prossimi giorni, a nuovi interventi. I lavori, che saranno effettuati poi nell'arco di 5-6 mesi, riguarderanno il ramo fognario di Piana Grande e di quello sulla SP19, all'altezza dell'incrocio con la strada provinciale 25. Inoltre sarà soggetto di manutenzione il serbatoio sopraelevato di Colonia Paese. Siamo andati oltre quella che è una polemica, a mio avviso, politica, quella più minuscola, siamo andati oltre quelli che sono dei giochi politici per il bene del territorio. Un sindaco, un'amministrazione neoeletta, ma a prescindere un sindaco che si dice civico per il bene della città, deve e può fare questo. E credo che la risoluzione votata da tutti i sindaci dell'Assemblea dell'Assi appunto dica questo, dica l'acqua deve rimanere un bene di tutti e per essere un bene di tutti deve essere appunto gestita per tutti e a favore di tutti. Il tutto anche in vista della stagione estiva. A sottolineare l'importanza della rapidità di queste opere è il direttore generale della Ruzzo Reti, Pierangelo Stirpe. Si ha molto a cuore l'aspetto fognatura e depurazione che per una città forte con notazione turistica come Roseto, che risente di una fluttuazione stagionale anche dei residenti, è fondamentale. Nei quattro mesi estivi Roseto si gioca la partita dell'anno e la Ruzzo Reti deve essere al servizio di questa amministrazione garantendo un adeguato servizio di fognatura e depurazione e un approvvigionamento idrico adeguato alla popolazione residente estiva. Il primo cittadino ribadisce come sia di primaria importanza non lasciare indietro le frazioni ed annuncia che l'amministrazione è già al lavoro, sempre in sinergia con Ruzzo, per effettuare ulteriori interventi. Le frazioni sono state danneggiate in questi anni da questi giochi politici, soprattutto da un tempismo che la politica ha visto in qualche modo usare solo come strumento di potere, cioè aspettare che dei progetti andassero avanti. Noi oggi invece vogliamo accelerare Cologna Paese, Piana Grande, ma anche adesso dare uno sguardo sulla 150, su quelle frazioni, per esempio una parte di San Giovanni, la strada che sale verso Monte Pacano. Ci sono tanti interventi che vanno pianificati e io credo che un passo alla volta si arriverà verso questa svolta di controllo del territorio.